Musica Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video Oggi siamo qui con Tech, Yako e Dere Ciao a tutti Ragazzi andremo a fare le build battle ma non in team perché sennò c'è troppo bordello Ovviamente noi faremo le provate E questa cosa è razzista scusa Tutti hanno la testa con la zucca E vieni vicino Io no Ma sono vicino E tu no Guarda Sono strunzo Sono uno strunzo del gruppo Ok ragazzi prima partita Vediamo cosa uscirà stavolta Speriamo qualcosa di up Bellissimo sarà Un granchio Un granchio Un granchio Metti omitano qui i soldi Eh allora Ovviamente ragazzi siamo tutti contro tutti perché Cioè io se gioco con qualcuno degli altri faccio vincere la squadra No ragazzi Perché altro se giochi con me vinci No Facciamo di cosa come sta C'è già le idee C'è già le idee C'è già le idee C'è già le idee? Sì 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 Allora potrei fare Bene 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 Soprottetto No Aspettate ragazzi I granchi hanno gli occhi vero? No 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 Sono ciechi Sì ce li hanno Ce li hanno Ok ok Come ce li hanno No come i pipistrelli si muovono con le orecchie che non hanno Esatto Dai Buono buono Non hanno le orecchie granchi Allora ora devo semplicemente No boom ragazzi boom No ho sbagliato Finita è finita Cazzo non funziona un cazzo qui La send me la dava schifosa me l'ha data la send No ma Ok ce l'ho fatta 4 minuti Ma che ha 4 minuti Dove 4 minuti Ma non ho ancora cominciato Eh Eh cazzo il cuore Muoversi No raga Ok bordello No qualcosa ce la faccio Chi sa cosa viene fuori da metano Io Ma sicuramente I denti e gli occhi strambi Un alieno No raga Metano Seriamente Per una volta posso dire di aver avuto un'idea quasi carina Ok Sì Diciamo che Siamo spacciati Diciamo Quasi carina Quando lui dice così E perché Prepariamoci al peggio Che ha fatto un'idea Uso le macro per spaccare tutto Cos'è No 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 Ragazzi veramente non è male Allora sto facendo tipo No vabbè ve lo posso anche dire Tanto che se ne frega Non potete copiare la mia bellissima idea Sto facendo tipo la spiaggia Cosa che avrete fatto sicuramente anche voi La spiaggia Sì sì Ma che è la spiaggia Ah già è vero Non l'avevo fatto grazie Grazie No no ragazzi Siete pazzi Scusate L'idea non si può copiare Tu stai guardando la spiaggia Ma fai il granchio Infatti Sì 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 Ma non so se farlo Cioè sì in teoria è arancione Boh Ci mancano tre minuti Ma cosa sono blu i granchi Cosa dici No una volta guarda che Fallo blu Ne ho visto uno che proprio fosse andata a male Ma non sono averti Mica sono quelle che si imitizzano nelle foglie Eh no quelli sono Quelli sono le cinici Che fanno un po' schifo Allora Ah mi raccomando Le zampe del granchio Quante sono? Sono 8 con le chele No sono 6 Cazzo me ne lo copio da qui No sono Oh cazzo Sono 6 Dipende non mi ricordo Io mi ricordo Per me lo facciamo tutto uguale Porca puttana quante sono? No sono 8 Per me sono 6 Sono 8 più No sono 8 più le chele se non sbaglio Le zampe del granchio sono 8 dai Sì ma più le chele Più le chele Sì sì Quindi allora scenderà una Ok no no in teoria è fattibile Io tipo sto facendo un granchio Però che non è granchioso Io ho preso ispirazione veramente Te lo dico Che schifo È preso da internet Per forza cosa devo fare Per forza cosa vuoi fare No ragazzi sono l'unico Falca 2 minuti Io non vi gioco solo in padella Il granchio Dio mio si si ci faccio anche la pentola Io vi gioco solo la polpa Il surimi Il surimi Il surimi nel succe Cowboy mi hai dato un'idea però No no Il surimi No ragazzi non potete fare il surimi voi È illegale Lo sta facendo lui Ma io non so come farlo Raga seriamente Ma non so neanche come l'animale Gli fai Gli fai fare le cose Sai cosa mi viene in mente In fondo al mar In fondo al mar Io propongo un banner No il mio sembra tipo Un impianto industriale Avete presente Quello dove si raffinano le cose Ecco Ma come Ma te lo giuro Ma cos'è Quante zampe mi hai detto sei Gli faccio la faccia simpatica però dai Allora In teoria dovrebbe essere tipo Una roba così Beh allora se gli fai la faccia simpatica Cos'è che c'è Oddio Ma veramente vuoi farla Perché ha una faccia il granchio Beh sì le bocche Oddio cosa sto facendo Le bocche poi come se ne ha Ne ha cinque Eh non è male Come un minuto Non è male Non fa capire quanto Bravo Tec Bravo Tec Ti sei dato da fare questa volta Però fagli le zampe Tec Non puoi non fare le zampe al granchio Al granchio Raga cosa ho fatto No raga Raga cosa ho fatto Ho paura a vederlo Raga Abbiamo tutti paura di lui Metano è pericoloso Ma che cosa è questa roba Ok allora Ce l'ho fatto tipo forse Io ho già vinto praticamente Quante Eeeh Eeeh No vabbè raga Eeeh io boh Più o meno E' una piattola Tipo fatta un po' Stava E gli faccio un pochettino Di contorno Non so Un po' di ambientazione Contorno Sì contorno di insalata I contorni ragazzi Sono tornati i contorni di Charlie Oddio c'ha le gambe Una più lunga dell'altra No Vabbè dai Anch'io c'ho una gamba Più lunga dell'altra Sì No la gamba è più lunga Delle altre due Oh No che Eh vabbè E' un po' sproporzionato Ma c'è Dai fatto Io l'ho fatto ragazzi Vabbè dai No bello Bello Ma cos'ho qui il papore Ciccio gamer Paghiamoli Ma c'erano questi stentardi ad occhi così Ma cos'ho fatto io allora Esatto Cos'è sta cosa Questa è una calamita È una raccosta Fidatevi Sempre meglio del mio Sì vabbè Non è bello Ma è sempre meglio Tutti super pupa Ah quindi ne hanno Ah dall'alto si guardano Ne hanno otto contanto Quelle Apprezzo lo sforzo Ma è un po' piatto Diciamo È un po' piatto Sì Ma è piatto È stato schiacciato No sembrava tipo una zecca Cos'è Cos'è Hai Mr. Krab Ma questo è i trabipatti Eh infatti questo è i trabipatti No no Super Questo qua è super pupa No No Votti facili No raga fidatevi Anche questo lo vedete è bruttissimo Sempre meglio del mio Però non l'ha finito Quindi Va bene Ma è un pokémon Ma io li do un super pupa come sempre Ma infatti lui ormai Eh Che fa l'aragosta È una ragosta Sembra È una ragosta Però va bene È una ragosta È una bella ragosta Ma scusa Il mio è piatto Lui fa l'aragosta e va bene Che cos'è Sono peggio Bello Non so chi l'ha fatto Ma All'ultimo film di guerre stellari È stato schiacciato da una scappa Questo qua E questo cos'è Cos'è Se l'ha mangiata La spiaggia Super pupa Ma cos'è un tartarughe Ci sono delle lumacchie Uno ha scritto prima sul tuo disegno È davvero spaventoso Sostieni È il mio figlio Ma è piatto anche il tuo Che cazzo vuoi Ma no guarda No dai Non è male Non capisco i bottoni che scopo avrebbero Scusami Ma scusate Perché ha fatto il fiumiciattolo Che non è un fiume Ma è un fiume Che se è un Digimon Ma che schifo è Questo veramente è peggio del mio È un po' strabico È un po' sì È Iacorolle terzo Ragazzi Io sono arrivato sesto però Io sono quarto No Ti ma che voto mi hai dato tu Ti ho dato un good coglione Ma comunque ragazzi Seriamente Se è sto non è male Speriamo ora di fare qualcosa di meglio Vabbè dai Uuuuh Adesso mi devo sbagliare Chi è che guardava il cartone Con lo scuolabus magico Cosa? Ecco What? Con lo scuolabus che si trasformava in una sua nave Se li faccio gli occhi Se li faccio gli occhi allo scuolabus Eh vabbè Se li faccio gli occhi No Li faccio fare allo Xeon Bellissimo Voi fare allo Xeon Sì sì Dai ci sta dai Adesso non devo esagerare Con le dimensioni Io esagero sempre Vabbè si sa No perché l'altra volta Ho fatto il camion con Iaco E' venuta una roba Che era 18 km quadrati E non è finito Pagavamo lì Solo sul camion Penso un po' No ma io Io così rischio di fare Una cosa troppo grossa Cavolo Eh vedi E mi è scritto Sì che le cose grosse piacciono Però Vabbè no Dai ok Un progetto I progetti grossi Piacciono sempre alla gente Quindi proviamo Stavolta Però usiamo meno cose Sessualmente Eh No vabbè dai Mi piacciono le cose grosse Mi raccomando Una cosa dello scuolabus Importantissimo Sono i bambini I bambini I bambini I bambini Scusa Cosa c'entra Scusa Vuoi un dolcetto I bambini Eh i bambini Eh tec Eh cosa No niente Niente dai Proviamo a fare qualcosa Allora Eh già I bambini Comunque No no Io sto Ho fatto tanto le ruote In così tanto tempo Per farvi capire E vabbè Morite E vabbè Morite Che idea Oh madonna Perché quando dici Dei mi cago addosso Ragazzi E' pericoloso Metano Avrai tentacoli Suo scuolabus Ma io ho fatto Lo scuolabus dorato Ma che cazzo E' tentacoli addirittura Dorato Dorato Perché scusa Sì sì anche E' lo scuolabus per i ricchi Ma c'è C'è il blocco Che si chiama proprio Scuolabus Tra un po' Eh infatti Infatti L'argilla È precisa È giusta L'argilla Tu stai usando l'argilla Io so la lana È più tamarra Lo scuolabus tamarra O ci sta ragazzi Ah però C'è a dire una cosa Eh no Rega Un sporto Eren No Ragazzi C'è a dire Una cosa molto importante In Italia Abbiamo un scuolabus così No Ragazzi Sono serio io In Italia sono così Ma non ho detto Che in tutto il mondo Siano così Quindi Magari gli altri Dicono Ma questo scusa Non è uno scuolabus Infatti io ne sto facendo uno americano Stile americano Quello giallo E io non so come sono quelli americani Scusatemi Ci metto un kebab sopra Lunghe gialli sono Google Lunghe gialli Ma cavoli dentro Devo metterci sedili Ma che cazzo È la madonna Sono come quelli di Napoli Hai visto il servizio delle iene Che stanno sulle panche Fai così Fanno prima Oddio No dai Gli sedili bisogna metterli dentro Vabbè oddio Vanno giallo e dorato Comunque il scuolabus Perché vi ho dato a scuola Ma ce la faccio io Quanto manca? Eh Un po' meno No ce la faccio Due minuti forse ce la faccio anch'io Non è detto Però non si sa mai Mancherà il tetto Come al solito Sto tu scuolabus No vabbè Non è così importante È normale Come hai detto te Che gli importanti sono i bambini Nessuno pensa ai bambini Qualcuno pensa ai bambini Ecco Ok Vabbè dai Vi dirò ragazzi Vi dirò Non è così brutto Non è così brutto Fa cagare il mio No no Il mio fa schifo Ma non è così brutto Che fatica mamma mia Che mi fate fare tutte le sere Manca Ah cavolo No no Sono malissimo così però Oggi è un tec ambiguo Dopo quello che è successo dietro di noi Eh sì Guardiamo che ormai siamo fidanzati La porta Cavoli stavo dimenticando la porta Io ti dico sempre Amore Quando esci Chiudi la porta Ma tu no Non ha la porta Questo Con che risotto È un malefico Mi dicono Da dove entrano questi bambini Dal tetto Eh 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 Dove entrano eh Non è Il villager C'è il villager Basta Come chiediamo a dire di queste cose orribili Veramente Allora Io ci metto qua Metti il villager qua Oddio adesso non posso mettere il tetto Se c'è il villager Che schifo Che schifo Voglio fare le cose agli ultimi secondi proprio Facendo le classiche Cazzate 20 secondi Dai ce la facciamo no Eh te forse sì io no Ma perché il villager è qua Non si sposta Dai 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 manca poco manca poco Il villager è in mezzo alle Alle palle Ciao No non posso muoverlo Proprio ciaone mi dicono eh Vai dai Col tetto col villager così Oddio Nooo Non ho fatto una merda Ho fatto di peggio In passato ho fatto di peggio Io ho fatto una robocca No No Ho finito Ho finito Ma che schifo Super puto È un cubo di rubri Che con le ruote Una casa Ma che schifo Il mio è quasi così Raga Raga guardate Però non è così Beh Beh Forse metano vince Forse metano Dai Fa schifo Ma non così tanto Una cosa No dai Non è male Perché i finestri gialli Perché Il pianale Cos'è sta Raga questo No scuola bus è giallo Sì ma Scusa È affondato È affondato nella merda Scusami eh Ma perché l'ha fatto raso terra Eren ha fatto una casa Ti dirò Eren No questo sembra un Sì Però È bruttino Ma Eren C'è andata a me No l'impegno c'è ragazzi Ha messo pure gli effetti Sono impegnato però No Non è finito Non ci credo Ho spostato Questo è uno scuola bus incidentato Questo qui è Il scuola bus tipico dell'Isis Ti ho votato good per sbaglio Ti ho votato good per sbaglio Sì All'ultimo secondo ho cliccato per sbaglio Questo è bello Ma non troppo Sembra un aereo Sembra un aereo Sì è un aereo Le uscite di emergenza sono qui Io lo voto ok Perché comunque l'interno non l'ha fatto Invece ha mai sfuggito l'interno No questo cos'è Scusami Ma cos'è Questo è Una casa Queste sono le case Quelle che stanno al mare Avete presente È una palafitta dorata Manca solo Alberto Castagna dentro Pace l'anima Questo è il monster track Monster track Questo qua Questo ha fatto il monster track Sul serio Ma cos'è È bello Ha fatto bene Insuruttibili così Si distruggono male Eh sì Le ruote Per la bella Eh Cioè Eh Eh Ok Però non c'è la porta Mi puoi tirare No c'è la porta C'è Come fare E l'apertura c'è Scusa Io guarda Ha detto me Metano è rimbete tech Ragazzi Non ci credo Però terzo tech Io secondo Vabbè Io sono arrivato quarto ragazzi Ragazzi Ci sta Dai Ogni tanto Metano vince Va bene Ma il tuo bus Non aveva il pavimento Cioè Se entrano i bambini C'ha mazzo Cadono per strada Non è capito Ma tu non l'hai capito L'ho messo in ruolo I do gialli Perché erano meno trasparenti Così non si vedeva dentro Non è capito Il suo scuola bus Era quello dei Flintstone Che avevano in piedi Ah Quello dei piedi Ebbè Vabbè Ok ragazzi Quindi abbiamo fatto due partite Di cui l'abbiamo anche vinta Incredibile Eravamo anche tutti sul podio Comunque Te lasciando questo Era bellissimo C'è poco da dire Ma è perché devi fare un camion Tu vinci quando devi fare un camion Sì ma perché Sono queste cose qui Allora Io lo dico Quando bisogna fare animali Insomma cose in generale Viventi Granchi Animali Persone Non lo so Tutta Che tengo più easy Magari mi riescono Tipo Grattacieli Robe simili Comunque Sto facendo questo Ragazzi come al solito Tutti i canali in descrizione Ci sono qua dentro Ignoriamo Iacorollo Spero che il video vi sia piaciuto E ciao a tutti Ciao Ciao Ciao